Si è già messa in moto la macchina organizzativa della seconda edizione dell'Ariano International Film Festival che animerà per quattro giorni dal 31 luglio al 3 agosto del 2014 Ariano Irpino, Flumeri e Savignano a concorrere al premio Ariano Film Festival come miglior opera oltre alle sezioni presentate nella scorsa edizione lungometraggi, cortometraggi, serie web, animazione e cortometraggi scuole. Anche una nuova sezione, quella dedicata ai documentari. La presentazione della manifestazione del 2014 è avvenuta nel corso di una conferenza stampa presso l'auditorium comunale alla quale hanno partecipato oltre all'attore Franco Pini in qualità di presidente della giuria anche Angelo Bassi, Lucia Di Spirito redattrice della testata giornalistica tv Sorrisi e Canzoni e ovviamente la regista lenese Anna Rita Cocca. Abbiamo cominciato la preparazione della seconda edizione, siamo entusiasti, siamo partiti con grande forza, grande coraggio, speriamo che vada di bene anche questa edizione, stiamo preparando quindi il bando di concorso che da questo momento è online sul sito www.arianofinfestival.com. Franco Pini ha un appena alle istituzioni, dovrebbero essere un po' più vicine a questo tipo di iniziative? Ci auguriamo che le istituzioni sì siano vicine, che anche come quest'anno, l'anno prossimo ci saranno i vari comuni tra cui Flumeri e Savignano e anche altri comuni, noi stendiamo comunque l'invito a tutti quanti a sostenere questo festival e quindi a ingrandire questa manifestazione verso tutti i comuni limitrofi, non solo ad Ariano. Ci lavoriamo un po' anche sulla parte artistica, adesso abbiamo lavorato molto sul sito, sul bando di concorso, quindi adesso spingiamo molto il bando per far arrivare le opere. Nella mia ormai lunga carriera non mi era mai capitato che il primo anno di un festival avesse questo grande successo, soprattutto di pubblico, di presenze e di qualità del materiale inviato, dei corti, dei film, delle serie web e può esserci un grande futuro. Qui il problema è che le istituzioni devono dare una mano ai privati e gli sponsor perché questa famiglia, Anna Rita Cocca e tutta la sua famiglia si stanno facendo veramente un mazzo tanto e meritano un aiuto più concreto perché non si tratta della solita sagra, anche se le sagre sono benvenute per carità, anzi sono il sale della cultura di un paese, però qui si tratta di un progetto che ha delle ambizioni, un progetto che vuole arrivare ad ampliarsi ai paesi vicini, a creare proprio una località, una roccaforte in Irpinia in cui si parli di cinema, di corto e di tutto quello che può dare spazio ai giovani, perché i giovani sono i più interessati a questo. Adesso si presenta la seconda edizione, qualche anticipazione, sappiamo che in genere non si fa, però qualche piccola curiosità. Posso dire che l'anno scorso ci sia stata praticamente una sola serata e addirittura date già le previsioni di affluenza, credo che le serate saranno tre o addirittura quattro, quindi già il festival ha fatto e fa un grosso balzo in avanti come lunghezza delle serate in questione. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.